Ho condotto e finito il mio dottorato europeo tra Francia, Germania e Italia con un progetto riguardante la biografia intellettuale di un giacobino di Magonza poco considerato dalla storiografia sulla rivoluzione francese, di nome Adam Lux. Durante quest'anno di ricerca condotta alla Fondazione Nadi ho avuto modo di interrogarmi e condurre la mia ricerca sui movimenti anti-accademici intercorsi negli ultimi due decenni del Settecento e le ricadute, soprattutto a livello retorico e ideologico, sulla dinamica populista che tutt'oggi è imperante nel discorso pubblico e politico.